ciao vi mostro come registrarsi su facebook qui abbiamo un form iscriviti gratis lo sarà sempre inserire il nome cognome numero di cellulare o indirizzo email di nuovo nuovo cellulare indirizzo email nuova password dato di nascita o morton facciamo un account di prova che dopo andremo a cancellare, chiamiamo nome Luigi, cognome ci metto prova indirizzo email andiamo a mettere un indirizzo email luigi1cacciololibero.it bisognerà inserire luigi1cacciololibero.it non sbagliato scusate allora qua dobbiamo inserire l'indirizzo email allora qua dobbiamo inserire il numero cellulare o l'indirizzo email ci mettiamo l'indirizzo email luigi1cacciolibero.it inseriamo una password io ne ho messo una di prova che devo cangela qui inventiamo 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 però puoi mettere i dati originali qua di solito dovreste mettere i dati originali li potete mettere anche non originali ma almeno mettete mettete i campi giorno questo qua in mese originale questi qua anche non originali non fa nulla però almeno questo e questo mettete l'originale perché facebook mi notifichi il vostro compleanno e così non vi vedrete notifichi gli auguri di tanta gente avuta che magari dovrete dire ma non è il mio compleanno invece anche se anche se la data sarà sbagliata se questo qua è il giorno del vostro compleanno comunque anche se siete registrati con questa data sarà sempre il giorno del vostro compleanno quindi le notifiche di compleanno saranno giuste e scrivete facebook lavora un po' inserisci il codice di sicurezza e dice che vogliono inviare il codice nella mail non è ricevuto continua non posso continuare se non inserisco il codice inviami un link oppure inviare con il codice non è ricevuto non sei tu no non sono io trovo il tuo account vabbè serviva solo a farvi vedere ovviamente per lo stavo inventando comunque in quel modo ci si registra facebook ciao ciao no